Musica Ma vediamo quanto è lungo il sud Orland Ma non è lungo C***o se vuoi rifarlo Ogni volta è più corto il suo salto Ma no da qua sembra enorme Ma se lo guardi da lì è subito qui Guarda com'è l'atterraggio Lo faccio a piedi se vuoi Allora non lo faccio oggi Però il resto lo faccio Musica 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 Provo a fare uno speed check Musica 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 Si arriva comunque Quindi se invece salto lì Atterro qui Frenatina e vado Musica Non si può fare un salto del genere Ho inghippato Se non vi iscrivete adesso Avete tutti la mamma p***a Ma scusa Tu fai per caso questo Questo qua Si Ho fatto tanto tempo fa Cioè bisogna prendere con l'altro di salto vero? Si Eh infatti Musica 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 Adesso stiamo andando in un piccolo posto in cui ci saranno un po' di bei salti da dirt e niente sono già morto per la salita quindi sto zitto ma che figo noi ce l'ho stato ma non era messi così bene ma questo qua c'è guarda la rampa c'è un quarter non è uno step up probabilmente questo posto qua una volta veniva usato per fare dirt ma è da tanti anni che non viene più usato infatti si sta proprio distruggendo tutto è un peccato è perché comunque un posto del genere che non venga sfruttato ma venga buttato così dispiace un po' scrivetevi per averlo zaino ragazzi se volete sto zaino qua vi scrivete e poi venite qua a cercarlo tanto non vi dirò mai dove è sto posto no lo farò una cosa però non fuggi sul rosso pap lo faccio no 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 poi ho troppa paura di fare i trick sui salti dai va bene tutto ma lo salto così allora questo qua è un bastone dritto questo qua è una rampa e così non rende cioè adesso firmiamo il matte che ci chiede il salto grande il matte se mai qualcuno di voi conoscesse l'inventore esatto gli organismi viventi che hanno inventato sto percorso per favore lo scrivano i commenti per questo video direi che abbiamo fatto abbastanza quindi mi raccomando a 2 milioni di iscritti vi farò questo posto no a parte gli scherzi veramente mi dispiace un botto che ci sia un posto così bello che non so venga lasciato proprio così non so il motivo perché sia stato abbandonato e boh allora il video finisce qui è stato abbandonato